bentornati sono da officine cubo qui accanto a me c'è un differenziale autobloccante di una mazda mx5 quella con la motorizzazione da un litro e 8 questo differenziale verrà montato su questa mazda che sta qui che è una 1.6 questo qui è un autobloccante mentre quello che monta la 1.6 no andiamo a vedere come si fa scopriremo tutto insieme ai ragazzi di officine e cubo lo dobbiamo aprire innanzitutto vuoto è già vuoto l'olio è già stato scaricato i due semiassi sono rimossi quindi dobbiamo rimuovere questo e questa parte questi dati della corona ora procediamo a rimuovere questo simpatica 26 mentre ora dobbiamo scoppiare il differenziale quindi troviamo un punto comodo tipo questo dobbiamo smontare il differenziale dall'auto questo è quello del mini set dobbiamo togliergli l'olio innanzitutto per estrarre i due semiassi e poi calare l'ultima parte di scarico questa gabbia questi tre pezzi vanno tolti e viene giù il differenziale il ppf è questo grosso traliccio che tiene insieme il differenziale posteriore e il cambio dobbiamo inoltre rimuovere le quattro viti che tengono l'albero di trasmissione al differenziale posteriore adesso sfiliamo l'albero e infascettiamolo al ppf vai adesso ci sono i due supporti superiori di questi braccetti per fare in modo che il semiasse si separi dal differenziale e ci da un po' di spazio per toglierli ma c'è ancora tutto al 1000 righe dentro eccolo qui il differenziale del 1600 vai adesso cominciamo a smontare quello del 1600 autobloccante differenziale normale 23456789 allora ora che li abbiamo tutte e due smontati sul banco possiamo dargli un'occhiata questo va bene differenziale non autobloccante un po' chilometrato c'è un po' di residui da tutte le parti però la coppia conica che è stata sostituita non troppo di recente è valido non c'ha giochi particolari è stato fatto un buon lavoro semplicemente lo richiudiamo e lo mettiamo da una parte mentre invece per quanto riguarda il differenziale nuovo questo è un differenziale effettivamente televisionato è stato comprato appena fatto tutti i cuscinetti sono nuovi è stato tutto già stretto in coppia di serraggio gioco è stato fatto anch'esso quindi direi che è anche tutto molto pulito ha solo bisogno di essere richiuso e di un bel po' d'olio ispezioniamo anche l'alloggiamento dei paraoli dei semiassi questo è quello danneggiato effettivamente questo procediamo a sostituirlo perfection guardiamo dall'interno non ha copiato va abbattuto ancora un po' per farlo arrivare a battuta apposta vediamo i residui di sigillante precedente guardare in che stato si trova questo antro che è l'antro dello schiato questo è il breeder fa uscire un po' di pressione quando il differenziale è molto su di giri bisogna controllare che semplicemente faccia il suo lavoro ovvero scaricare un po' di pressione all'esterno ok lo sigilliamo come era sigillato in origine ok qui c'è un po' poca un po' po' poca oh mi raccomando ti devi ricordare tutti i bulloni eh io non ho mai visto una cosa così brutta ma chi è che ha questo gusto dell'orrido è terribile dopo aver penato un po' per mettere i due supporti del ppf ritorniamo alla normalità e rimettiamo i supporti del differenziale sulla barca posteriore una bella pulita così scorrono una bella pulita così scorrono questo perno è molto deformato come disse il maestro di pianoforte qua si entrava del tutto ma qualche bottarella così ah tac quindi non vanno cambiati i semiassi con il differenziale diverso non con questa versione è dato per compatibile quindi ok dai che è finito abbiamo finito rimettiamo lo scarico riavvitiamo la sonda ah 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 dai ah pcra ragazzi non abbiamo fatto in tempo a finire siamo qui di nuovo oggi in questa giornata di fuoco il caldo giugno romano ma noi siamo sempre carichi e vi vogliamo bene giusto Tiziano? giusto quanti litri? uno dovrebbe andarci Michele io mi vado a fare un giro con la Mazda e il nuovo Diff autobloccante con quest'uomo pieno di capelli vedremo volare i suoi capelli ragazzi oggi dai test drive to axle funzionante ovviamente non è che senti la differenza del differenziale in un test drive del genere no servono un po' di curve come scrive servono un po' di curve come si deve non sento rumori di morte non sento scatti tutto serrato a dovere c'è solo l'unica pecca che il volante è leggermente storto ma quello già da prima credo forse perché la piastra del volante è stata messa un dente troppo a testa ma il resto mi sembra tirando giù la frizione non sento rumore tutto sembra funzionare tutti adesso vabbè sì ma mica la vora attraversa tutti adesso pure la Tesla pure la Tesla pure la Tesla se la attraversa lui zio lui dritto in moto Tesla di merda cioè due mezzi più esotici non li potevamo trovare la Buel e la Tesla oh oh mi parte la telecamera non la attraversare lo fa il proprietario ragazzi non la attraversa lui no la attraversa lui Grazie a tutti